Luca, ti porto in un terreno un po' diverso dal solito, che abbinamenti con i tuoi piatti, con la trippa, con il quinto quarto e il vino? Chianti Io sono ormai sei anni nel mio locale, che faccio bottigliare il vino della casa, ed è un chianti doc, che non fa legno, o acciaio, o cemento, che approvo in pieno tutti i chianti di Montalbano. Ecco qui, in questo caso abbiamo assaggiato prima il carcerato, che comunque è legato alla trippa e all'ampredotto, e gli stiamo dando un chianti di Montalbano, perché rimaniamo Toscana in bocca, ma a Pistoia. Benissimo. Benissimo.